Per realizzare quest'altra performance ci è voluto sei mesi di tempo, portare un carro attrezzi completo di un mezzo trasportato su due ruote, un'impresa una delle più folli tra tutte quelle che ho realizzato sino adesso, innanzitutto sono mezzi fuori uso e sono pronti per andare in demolizione, quindi io e il mio team li recuperiamo, cerchiamo di rimetterli in sesto e poi ci mettiamo a fare queste foglie qua, se vogliamo chiamarle così. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Caro saluto a tutti gli amici del web, agli amici di Formula Motori. la macchina è stata, mi trovo in pista il cambroso come è stato il sesto per il quinto record mondiale. Sono a bordo di un carro attrezzi con un furgone trasportato sul pianale. il primato consiste nel dover percorrere il maggior numero spalla di metri perché questo veicolo è ingestibile, quindi anche dovendo riuscire a fare poche decine, centinaia di metri è già un successo. e questa performance è inizialmente senza la rampa. Prima uscita è andata da una buon fine. Grazie a tutti! 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 Dopo questa performance è andata a buon fine, siamo già a lavoro con tutto il mio team per realizzare un altro record a livelli paurosi perché sarà una bisarca carica di macchine su due ruote. Ci stiamo già lavorando, naturalmente il progetto è a lungo termine. Per il momento ancora non possiamo fissare date perché diciamo abbiamo tirato sul progetto però ancora non abbiamo le basi per dare una data precisa. dipende sempre dalla collaborazione degli sponsor, di chi ci dà una mano. Sono gli sponsor tecnici, i gommisti, i meccanici, i carrozzieri, gli amici che diciamo hanno un'attività e mi aiutano con gran piacere. Grazie a tutti! Grazie a tutti!